Un'Atalanta ritrovata si conferma dopo l'ottimo risultato contro il Chievo Verona vincendo in casa per 3-0 contro il Parma. Io nel video precedente avevo detto aspettiamo i risultati delle prossime partite per capire se effettivamente possiamo parlare di una condizione di una squadra ritrovata oppure no. Bene, dopo la partita di oggi secondo me possiamo già iniziare a fare delle considerazioni importanti perché tante cose abbiamo visto, tante cose hanno funzionato, ci sono anche diverse cose che non girano come dovrebbero, però la somma è senza dubbio positiva. La prima cosa che devo dire e con questo penso chiudere il discorso che abbiamo iniziato ad agosto è che la forma fisica è stata completamente ritrovata. L'Atalanta ha corso incessantemente per 90 minuti, a volte ha corso un po' a vuoto, a volte non ha tenuto un ritmo altissimo, ma comunque ha sempre avuto palla, ha sempre avuto palla in corsa, ci ha sempre messo fiato e quindi non ho problemi a dire che quel problema di forma fisica che ad oggi ancora non mi spiego è senza dubbio recuperato o quantomeno è recuperato per l'undici titolare che come col Chievo Verona si conferma essere un po' la formazione storica. All'interno poi di questa formazione un'altra conferma è che Illicic ha recuperato pienamente la sua condizione, ha ritrovato una grandissima motivazione e anche oggi ha fatto una partita incredibile e lasciatemelo dire veramente incredibile. Ha fatto tutto quello che poteva fare, è un Illicic completamente diverso rispetto a quello di due o tre settimane fa, io sono felicissimo di dirlo, sono contentissimo di quello che ho visto perché ci ha messo la corsa, il cuore perché è andato a fare anche grandi recuperi, la tecnica, una traversa, un mezzo assist, un altro, insomma ha fatto tutto quello che si può chiedere a un giocatore come lui e io ne sono estremamente contento. Anche la difesa ha fatto un lavoro egregio sugli scudi senza dubbio Toloi che ha fatto tra l'altro un recupero a Gervinio incredibile, Mancini autore di un assist involontario e di un gol che quindi insomma è un giocatore che io ho bastonato parecchio perché secondo me non difende benissimo ma senza dubbio in una squadra che gira è un giocatore che può dire la sua soprattutto poi nei meccanismi offensivi perché di testa il ragazzo ci sa fare, di testo comunque all'interno dei calci piazzati. Così come la prestazione di Palomino è assolutamente eccellente perché se Toloi a questo giro è stato un attimino più basso, Palomino ha fatto il Toloi della situazione sganciandosi spesso in avanti e l'ha fatto gran bene andando fra l'altro appunto a segnare anche lui su un calcio piazzato. Altri giocatori su cui mi sento il dovere di spendere qualche parola positiva sono Gosens che ha corso come un dannato su quella fascia per tutta la partita. Ovviamente il discorso che abbiamo fatto migliaia di volte, Gosens ha dei limiti, soprattutto diciamo nella costruzione non è un abilissimo crossatore, non è un incursore nato ma un giocatore che fa il suo mestiere dalla difesa all'attacco, dall'attacco alla difesa, correndo sempre, proponendosi sempre per l'appoggio, andando sempre a cercare l'1-2, è un giocatore a cui non gli si può dire niente. Si spera ovviamente che il percorso di crescita lo porti finalmente a essere quell'esterno che si inserisce sul secondo palo, che ne scarta 5, fa tutte quelle robe bellissime, ma la prestazione di oggi è senza dubbio positiva e io mi auguro che riesca anche ad avere un po' di continuità perché un Gosens così, per quanto mi riguarda, io ci metto la firma e me lo tengo. Altro giocatore che va assolutamente eccitato è Deron, che ha fatto l'ennesima prestazione di sudore, di fatica, andando a recuperare migliaia di palloni, cercando di proporsi anche in fase offensiva, con un paio di tiri da fuori di cui uno poteva anche diventare veramente pericoloso e quindi è un giocatore importantissimo sia per lo spogliatoio ma soprattutto per il nostro gioco perché in mezzo va su tutti i palloni. Come ho detto ci sono anche alcune criticità in questa partita. La prima criticità che viene, o criticità se così si può parlare, è la prestazione di alcuni giocatori. Nella fattispecie Atteburr non mi ha entusiasmato. Trovo che il ragazzo abbia una corsa pazzesca, perché ha una corsa pazzesca, ma che manchi di una logica nel suo gioco, cioè una volta ti becchi l'Atteburr che ti fa il gol sul secondo pallo perché capisce la penetrazione e poi per 5 partite ti prendi questo treno che va avanti indietro ma senza una logica. Difficilmente si va a proporre, spesso e volentieri quando ha palla al piede non ci cava fuori niente di interessante e soprattutto sbaglia anche tante giocate semplici. E lì rispetto a Gonsens io ho molti dubbi e mi piacerebbe cercare di valorizzarlo perché ha delle doti fisiche che non tutti hanno, però le doti fisiche da sole chiaramente non bastano. Così come oggi non mi è piaciuto molto Freuler, l'ho visto molto affaticato, non ha dato quello che dà di solito e ha sbagliato anche una serie di passaggi piuttosto elementari. Freuler secondo me è un giocatore che non si vede ma dà un apporto importante alla squadra e oggi per esempio la sua assenza è in mezzo perché non è stato molto presente in alcuni frangenti della partita che non si sbloccava soprattutto nella seconda parte del primo tempo la partita non si sbloccava, non si riusciva insomma a creare quella incisività. Secondo me era data dal fatto che lui ha fatto un sacco di fatica. Menziona parte per il Papu che in questa nuova posizione evidentemente è un giocatore meno spettacolare, è un giocatore con meno capacità offensiva e quindi io da un punto di vista del fatto che non segni onestamente non ne farei un dramma perché comunque è stato spostato in un ruolo un po' più di rifinitore. Detto ciò è evidente che comunque lui ha un po' un problema a passare la palla soprattutto a determinati giocatori. Gli scarichi sulla fascia ne ho visti due con Gosens libero che si sbracciava il più possibile per farsela dare. Ecco quella parte lì secondo me è una parte che va assolutamente migliorata perché non ci possiamo permettere la sua ostinazione andare nello stretto a cercare di saltarne tre quando insomma non è sempre festa neanche per lui. Però nella posizione nuova devo dire che mi piace, mi piace, si sta adattando bene e può effettivamente essere di grande aiuto soprattutto poi quando hai di contraltare un giocatore come il Icici. Terzo giocatore che onestamente non mi ha fatto impazzire e sono gentile è Barro che è un giocatore che secondo me ha tante potenzialità ma in questo momento è un giocatore spaesato. Spaesato perché prova delle giocate che il suo fisico francamente non può permettersi perché quando con insistenza va a cercare lo stretto non avendo l'agilità ma soprattutto non avendo neanche la stazza per tenere i giocatori ma a me fa anche un po' tenerezza. Quindi non voglio dargli le pressioni, l'ho sempre detto è un giocatore che dobbiamo lasciar fare però vorrei da lui anche una presa di coscienza che sia un buon giocatore potenziale ma ha dei limiti evidenti e su quei limiti bisognerebbe lavorare e nel frattempo lasciar perdere determinate cose. Limiti fra cui lo stop che anche oggi è stata una roba inguardabile. Io in Serie A gente che stoppa il pallone così ne ho vista veramente poca e io spero che su questa roba insomma si lavori perché è un peccato perché un giocatore che davvero dalle potenzialità ce le ha gli mancano delle nozioni di base su cui si può lavorare ma che senza quelle francamente vedo difficile riuscire a passare al livello successivo. L'ultima osservazione che voglio fare è il fatto che i giocatori nuovi neo acquisti non riescono a inserirsi perché anche oggi Pasadice, Zapata e Rigoni con tutto il fatto che non hanno giocato tantissimo e tutte le considerazioni a caso hanno ancora molta fatica a capire i meccanismi e a vivere il feeling della squadra. Li vedi che non sempre ci sono e non sempre seguono l'affiatamento. Come ho detto nel precedente video teniamoci buoni gli 11 dell'anno scorso, continuiamo a lavorare per inserire i nuovi ma intanto teniamoci gli 11 dell'anno scorso quindi va benissimo però va detto che i grossi investimenti fatti questa estate non stanno pagando al momento. Io spero che siano utili pedine soprattutto per il girone agli editori in cui magari i giocatori che stanno giocando tanto adesso avranno molti minuti sulle gamme e saranno stanchi e spero che proprio in quel momento si rivedino determinanti. Io come al solito vi ringrazio, sono ansioso di leggere i vostri commenti, se volete seguirmi sui social vi lascio tutti i link in descrizione o se no ci vediamo come sempre su atalantini.com. Ciao!